Lui è Pavlov, cucciolo di quattro mesi, appartiene ad una cucciolata di nove, è nato da mamma Randaggia, ha vissuto due mesi per la strada nel giardino dove la mamma l'aveva messa al mondo, dopodiché i cucciolotti hanno avuto lo sfratto da quel giardino e allora abbiamo dovuto portarli in canile. Speravamo veramente che li adottassero subito perché erano veramente piccoli e carini, invece così non è stato e loro sono diventati di quattro mesi. Pavlov infatti a questa età non è più un cucciolotto e le possibilità di essere adottato si sono ridotte. Oggi stiamo facendo un altro tentativo per lui, è un cucciolo dolcissimo, speriamo che non resti qui e non cambi il suo carattere perché i cani più restano in canile e più rischiano di non uscire più perché hanno paura di tutto, hanno paura delle persone, hanno paura di andare per la strada al gonzaglio, più crescono e più per loro ci vogliono persone speciali e comprensive. Questa è la realtà dei cani cresciuti in canile. Ovvero piccolo Pavlov, è tanto carino, diventa di taglia media non grandissimo, 15-18 kg, questo sarà il suo peso finale. Piccolo, ti auguro tanta fortuna perché sei buono, bello e dolce. Piccolino, andiamo dai fratellini, vieni. Piccro, andiamo dai fratelli, vieni. Tanto, in personale, vieni, vieni, vieni. Ci rischio, vieni, vieni. Chao, vi кадa. Ora, la Vera, c'è quieta. Questa, allia, la loro pouvez guardare il canile. Maia, ora, lapa, via laalla per la Haletta,